Musica Dobbiamo cercare di capire che musica portare in questa serata, sulla scaletta voi quando potete uscire. Abbiamo lavorato proprio per questa serata, abbiamo messo su dei brani che eseguiremo come famiglia d'arte per la prima volta. Vorrei fare, eccoci, eventualmente facciamo orientativamente 8 minuti in tutto. L'associazione nasce nel 2006 per opera dei collegi Iagulli, dietro la scomparsa del piccolo Marco affetto da Neoplasia. L'associazione infatti porta il nome Arcobalero Marco Iagulli. Nell'arco di un anno abbiamo diverse famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche e quindi siccome noi le seguiamo psicologicamente ma anche economicamente e noi sappiamo che i viaggi della speranza, soprattutto fuori il nostro territorio, sono costosi, noi sosteniamo queste famiglie. L'associazione si sostiene attraverso stand di piazza. C'è un evento annuale che viene fatto al Teatro Ariston e quello è un evento per noi molto importante perché attraverso quello, insomma, entrano un po' più di fondi. L'abbiamo preparato a posta per... Quindi è una sorpresa, quindi non vuoi far ascoltare. No, l'abbiamo preparato a posta. È deciso, molto deciso. Guarda, è molto difficile. Ho fatto lavorare i ragazzi anche fino a sei ore al giorno, sette... No, non la sai... Non c'è l'assistente sociale. Non chiamare l'assistente sociale ma resta. No, questo... Chiamare l'azzurro. Chiamare l'artobalene... Ok, andiamo a vedere i lavori che stanno facendo le ragazze. Vieni, vieni, venite. Allora, questi... Scusate, vogliamo spiegare un po' alla famiglia Gibbon? Queste sono proprio per la serata. Noi abbiamo fatto altro che prendere una sagoma e riprodurla su carta da parati che ci hanno donato. Sono di mariella. Lì, vari colori, fantasie... Sì, come vedete, insomma, è tutto creato in mano. Ci stia poi sopra, ci mettiamo... Ecco, una cosa importante, perché noi dobbiamo ricordare la serata, no? Settima edizione, donare la speranza aiuta a vivere per noi. Abbiamo detto prima che per noi è un evento molto importante. Il battivaglia risponde bene a queste cose, è vero? Sì, sono solidali, sono solidali. Sì, sono solidali. Una volta che abbiamo ridisegnato e ritagliato tutte le sagome, le andiamo a chiudere. Quante caramelle? Tre. Sembra un po' pochine, come vai? Che è fuori di risposta. Le chiudiamo in questo modo, con le caramelle dentro, e poi ci aggiungiamo la pergamela. Umi, posso imbicciare? Vuoi far vedere una già chiusa? Che bella, non è colorata però, vero? Te li do tu, eh? Guarda! Buttiamola questa. Vedi? La fatti in un attimo. Questo è il prodotto finito. Chi è questo genio? Eccolo! E' un genio del... E' un genio... Buon applauso, bravo! Grazie!